musica 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 che c'è qui? dobbiamo andare, ho ucciso dallo capo adesso tutti qui saranno musica tieni tieni anche questo loro pensano che non abbiamo le palle per affrontarli uccidiamoli musica 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 cazzo mi trovo mi hanno legato cazzo merda musica 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 Qualcuno è entrato Tanto rumori E qui Prendiamolo Vediamo se sveglio Cazzo Dove è mia cucina? Dove devo andare? Devo rumore Quelli sono in casa Cazzo Sono tutte chiuse Perché? Facciamo più Devo trovare subito le chiave Un gocciotto me lo faccio Un gocciotto 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 Bastard. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Vai! Credevi di uccidermi? Povero Luso! Perché devi opporre sempre una cazzo di resistenza? Cazzo! 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 Cazzo!